Sottolini Sottolini Lascia rispilare leggermente Lascia rispilare leggermente Lascia rispilare leggermente Lascia rispilare leggermente Così Ecco li prendiamo da qua Così Stai di dietro Stai di dietro Quanta? Perfetto Così Passano sotto l'arco Perfetto Così Sottolini 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 Pagano regolare 3 giri al termine, 3 giri al termine. Un applauso per la formazione che dopo l'esercizio di Virginia, 2 giri al termine. E' iniziata l'ultima tornata. Arrivano anche il Max Cim. Un applauso per la formazione che dopo l'esercizio di Virginia, 2 giri al termine. 4 giri al termine. Aspetiamo la bandiera della falcioposta. A posto con la bandiera, a posto anche qua. Corridori, attenzione, via! Grazie a tutti! 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 avete quasi un giro in una cazzo, avete quasi un giro eccoli qua, 5 vettistrada, 3 giri al termine, 3 giri al termine per la testa della forza bravo Massimo ecco il numero 80 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 e lasciate contro il bando buona ragazzi i campi che tutti del team di Virginia stanno controllando si stanno controllando il trono chiude sparsi, lasciare, passare gli uomini di fuga ecco i quali i primi i primi a transitare e gli stanno a approfarsi dai primi è breve chi si andrà a giudicare questa ultima e conclusiva gara eccoli qua altri atleti del team di Virginia vanno a cercare di chiudere su tentativi di allungo ecco gli atleti che si stanno dando battaglia per andarsi ad giudicare l'ultima volata eccolo qua è Leonetti Leonetti che si andrà a giudicare la gara Leonetti del team 5 paletti ecco gli atleti del team Grazie.